Oh, ma quanto sono belli questi disegni! Ma domani li portiamo al centro estivo e li facciamo vedere agli amichetti? Eh? Ci andiamo domani? Tutto una nuvola. Una nuvola, è bellissima! Due nuvole! Ci andiamo domani al centro estivo oppure no? Sì. Sì? Oh, meno male. Vabbè, poi domani mattina mi dai la conferma al 100%, eh? E invece oggi pomeriggio ci vogliamo andare in piscina con Gimmi e Bianca? Hai sentito che prima Angela ci ha chiamato e ci ha invitato? Va bene. Brava! Facciamo una cosa allora, tra poco prepariamo la borsa con tutto quello che ci serve per andare in piscina, quindi con i braccioli, la cappatoio, le ciabattine. Dai, così quando vengono a prenderci siamo pronti. Cosa vuoi? Mi dai il blu. Blu. Fai vedere un po' questi disegni, su. Un faro con lo squalo, che bello! Un treno. E questo qua. Un treno. Che bello questo! E chi sono? Siamo noi? Sì. Scusami, ma siamo in troppi. Questo è il papà. Questa è la mamma, giusto? Questa sei tu. E questo chi è? Il fratellino. Il fratellino? Quando arriva? No, tu fai sempre così. Lo hai fatto con la droga e l'hai fatto anche adesso. Prima combini con un gran casino. Poi fai finta di pentirti e cerchi di rimediare. E uno ti dovrebbe anche dire grazie. Non è così che funziona, Leonardo. No, no. Io non cerco nessun tipo di ringraziamento. Ti ho visto molto tesa a casa di tuo suocero e non voglio crearti altre situazioni imbarazzanti. Che uomo di gran cuore. E con Filippo tu non hai avuto il minimo imbarazzo, no? Non ti sei sentito un bello, no? Lui ti ha salvato la vita. Allora, dimmelo tu. Cosa dovrei fare? Niente. Tu non devi fare niente. Tu mi devi solo lasciare in pace. È quello che vuoi? Sì. È quello che voglio. Senti, io lo so che ho sbagliato. So che Filippo non se lo merita. Se io tornassi indietro, lo rifarei. Ma la smetti? Sì, serena. Sì, io lo rifarei. Ti ribacerei altre cento volte, anche se mi dovessi prendere altre cento schiaffi. Perché tu meriti di essere felice. E adesso non lo sei. Io lo vedo. Tu sei un presuntuoso arrogante. Ma tu che ne sai della mia vita? Tu di me non sai niente. Leonardo, tu per me sei zero. Tu non esisti. È chiaro? Se la dici tu. Hotel, è un'ora che stiamo a telefono. Il braccio mi si è proprio anchilosato. Ringrazio a Teresa dell'invito e ti farò sapere qualcosa di preciso al più presto. Satti bene, Renato. Però non fare passare troppo tempo. Decidi di avvenire. Vabbè, hotel, ci sentiamo. Amore, cosa combini? Che combini? Hotel, a telefono, mi tiene un'ora. Vabbè, ma noi adesso ci faremo un bel bagnetto perché ho preso troppo il sole e mi sto sciogliendo. Andiamoci a fare questo tuffo. Dai, ragazza, andiamo facciamo il bagno. Maria. Magari dopo, eh? Eh? E perché? E perché? Perché ho mangiato. Ti ricordi, stamattina ho mangiato cappuccino, contiene il latte, per cui mi si è bloccato sullo stomaco. Ma se l'acqua è bollente come il brodo? Ora è bollente. Se poi viene una corrente ghiacciata che mi blocca la digestione, eh? Che facciamo? Vai, vai, con Erina a farti un bagno. Io mi leggo un po' il giornale, tranquillo. Vabbè, dai qualche pagina anche a me. Aspettiamo questa digestione. Va bene. Ok. Ecco il giornale. A te e a me. Tutta vita, eh? Sì, Michela, magari prendi tu il pane. Alla scena ci pensiamo stasera? Sì, sì, sì. Scusami un attimo. Sì, Pausto, scusa. Ah, sì, 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 stasera c'è uno spettacolo all'arena. Sì, mi sembra una buona idea. Va bene. Adesso ti devo lasciare, eh? Un bacio. Ciao, ciao. Beh, come me è andata via la cliente? Cercava qualcosa in particolare? Qualcuno? Cercava Alex. Ah, ok. Grazie. Questo disegnatore ha vinto un sacco di premi. È una stampa preziosissima. No, è una sciocchezza. Giusto un regalino per decorare un po' la stampa. Ma che regalino, Vicky, è un regalone. Grazie. E non è ancora finita. Stasera ce ne andiamo al Cyber Lodge a sentire il concerto più imperdibile di tutta la stagione, di Vic Viglione. Grazie. No, Vicky. Perché no? Stasera ho il turno al Vulcano e poi devo tornare a casa perché devo finire le bozze per l'Hut Crazy. Vanno consegnate domani pomeriggio. E siamo a zero, ovviamente. Vabbè, e il concerto sta alle dieci e mezza. Mica devi lavorare fino a quell'ora. Eh no, però con me come faccio? Già mi consentono di farla stare qui, mica posso lasciargliela anche la sera. Mi dispiace per i biglietti. Ah, la figura di quelli si piazzano. Vabbè, e facciamo che ci andiamo a fare un bagno domani pomeriggio dopo che hai consegnato le bozze, dai. Amore, scusami, perdonami. Perdonami se ti sto trascurando tra il lavoro e mia. Puoi avere ancora un po' di pazienza. Ti prego, perdonami. Ma figurati, ma che ti devo perdonare, Alex? Se tu sei incredibile, sei un mito, fai un doppio lavoro, devi pure gestire quella rompi... quella rompi di tua sorella. No, non sono un mito, però mia sorella una ne fa e cento ne pensa. Appunto. Comunque, a proposito, è un po' che non la sento. Se mi aspetti un attimo qua vado a vedere che cosa sta combinando. Sì, no, no, vado. Già mi odia, poi se la rimproveri davanti a me è ancora peggio. Va bene. Ti scrivo dopo. Ciao. Ciao, Mia! Mia! Facci piano coi decibel, così mi fai venire un trauma. Ah, io ti faccio venire un trauma. Questo lo mettiamo a posto. E perché? Perché è l'ultimo. E allora? E allora non sono tuoi, sono di bianca. E quando torna magari se ne facciamo trovare qualcuno. Quante storie per un gelato. Uno, ma se ne hai già mangiati due. Te l'ho mai detto che sei una palla? Sì, me lo dici duecento volte al giorno. Scusa, se hai fame, prenditi qualcosa da qua. E cosa secondo te? Una bella fetta di tofu? Che non so manco che è. O un bicchiere di latte di riso? Senti Mia, lo vuoi capire che qui non abitiamo da sole? È già tanto che mi abbiano concesso di ospitarti, quindi cerca di essere educata. E basta, ho capito! Che pare sei proprio come mamma! No, non sono come mamma. È vero, tu non sei come mamma, scusa. Comunque se mi prometti che nel frattempo ti comporti bene, la prossima volta che torno dal volcano porto una scatola di gelati tutta per noi. Tutta per me? Tutta per te. Però me lo prometti? Diciamo che ci provo. Sì, serena, sì, io lo rifarei, ti ribacerei altre cento volte, anche se mi dovessi prendere altre cento schiaffi. Perché tu merdi di essere felice. E adesso tu lo sei, io lo vedo. Sì, Filippo, dimmi. Amore, fammi capire, dove si trova questa tintoria? Al Polo Nord, mi devo preoccupare? Eh, no, ho fatto un viaggio a vuoto perché prima mi hanno fatto aspettare un sacco di tempo, poi mi hanno detto che una delle lavatrici è rotta e quindi ritarderanno tutte le consegne. Comunque chiudono venerdì. Accidenti. Vabbè, quindi stai tornando? Sì, sto tornando, ma perché è successo qualcosa? Irene sta bene? Sì, sì, è tutto a posto. Guarda, Irene sta benissimo. Anzi, sono riuscito a mandarla in piscina con Jimmy e Bianca. Angela ha preparato anche i panini per tutti e tre, mentre io invece sto morendo di fame. Perciò... Sì, sono qui sotto, sto venendo. Giulia, che bello vederti. Disturbo? Ma no, figurati, accomodati. So che non è bello presentarsi senza avvisare, ma contavo sull'elemento sorpresa. E ci sei riuscita? Qualcosa di fresco, dai, accomodati. No, 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 perché adesso io e te stiamo uscendo. Ah sì? Per andare dove? Hai qualcosa di meglio da fare? No, guarda, veramente stavo mettendo a posto un po' la libreria, spolverando perché non mi sono presa molto cura della casa ultimamente. ultimamente non ti sei presa molto cura neanche di te. Quindi adesso la fai finita e lasci stare tutto quanto e smetti di stare lì a pensare a quando gli comincia il processo a maglio. Come fai a saperlo? Non riesco a pensare ad altro. Ecco. Lo so, lo so, Giulia, che sbaglio, però... Sei molto cara che ti preoccupi per me, ma non mi va di uscire. Io non mi preoccupo soltanto di te e anche per me non è questo un periodo dei migliori. Mi dispiace, lo so. Mi dispiace per te, Dennis, davvero. Comunque, siccome è scientificamente provato che passare del tempo con un'amica aiuta lo spirito, non solo, pare che aiuti anche il sistema immunitario, per cui adesso io e te ci andiamo alla terrazza, ci mangiamo qualcosa e facciamo due chiacchiere. Ehi, fallo per me. E va bene, mi hai convinta, solo per te. Dammi un minuto, mi cambio.